Ora si sono appena concluse le operazioni elettorali ed è stata un'elezione. Le elezioni di quest'anno sono state particolarmente complesse, però la macchina, la macchina dello Stato, ha fatto fronte a tutte le difficoltà, nonostante il Covid-19, diciamo che si sono svolte in tutta sicurezza. È stata una prova molto impegnativa per tutti noi e io mi sento di ringraziare tutte le istituzioni, le prefetture, i comuni, gli scrutatori, i presidenti di seggio, le forze di polizia e la parte anche del volontariato della protezione civile che ci ha aiutato soprattutto per la parte relativa al voto da raccogliere in casa per coloro che erano in quarantena. Le operazioni di voto si sono svolte in tutte le 61.622 sezioni ordinarie. Abbiamo le sezioni ospedaliere, circa 200, e poi i seggi speciali che hanno raccolto a domicilio il voto e abbiamo avuto circa 3.097 richieste di poter votare a casa. Per coloro che erano in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario. Non hanno votato per le comunali, questo tengo a dirlo perché ho letto qualche polemica su questo aspetto, gli elettori iscritti nelle sezioni ospedaliere ricadenti in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore stesso. Questo ricade in una previsione normativa risalente al 1960. D'altra parte sui numeri che vi ho detto prima, soltanto 224 votanti su un corpo elettorale di 5.700.000 circa non ha votato per le comunali perché invece è da precisare che hanno potuto votare sia per il referendum che per le regionali. Per le sezioni ospedaliere noi abbiamo tramite il commissario Arcuri abbiamo rifornito coloro che dovevano andare a prendere il voto in casa 100.000 camici monouso, 200.000 guanti monouso, 30.000 mascherine chirurgiche, 4.000 mascherine filtranti, 2.000 visiere. Anche su questo voglio chiarire che le regioni in base ad un accordo che è stato fatto con il commissario Arcuri hanno anticipato il materiale che poi verrà rifornito successivamente da Arcuri proprio in base a questo accordo e quindi per tutto ciò per fare prima soprattutto ma anche dopo aver accertato che ci fossero tutte le richieste pronte da parte delle regioni in modo da poter restituire quello che effettivamente era stato utilizzato. Con riferimento ai seggi ordinari le prefetture hanno distribuito 15 milioni di mascherine, 3 milioni di guanti, 300.000 litri di gel igienizzante. Sono stati 465 i comuni per un totale di 1.453 sezioni elettorali che hanno risposto alla richiesta che era partita dal Viminale di trovare dei seggi alternativi alle sedi scolastiche. D'altra parte quindi voglio dire che a questo proposito abbiamo avviato un tavolo di lavoro perché quanto prima si va davanti su questa strada in modo da evitare effettivamente che si debba votare necessariamente nelle strutture scolastiche. I comuni che hanno votato sono stati 1.179 di cui 155 con una popolazione superiore a 15.000 abitanti e 1.024 inferiore a 15.000 abitanti. Per questo sforzo capillare quindi devo dire che abbiamo garantito il diritto di voto a tutti gli italiani ed è stato un grande servizio che abbiamo fatto al Paese dimostrando come uno Stato democratico riesce a far fronte a tutte le situazioni anche una situazione difficile come quella attuale perché è la prima volta che si vota in presenza di una pandemia. Un ringraziamento deve andare anche ai cittadini soprattutto agli anziani che hanno avuto fiducia in tutte le precauzioni che come Ministero dell'Interno abbiamo adottato nei vari seggi e sono andati a votare in numeri importanti. Allora voi lo vedete da quelli che sono i dati che Eligendo vi sta dando io ho ritenuto di scendere comunque qui in sala stampa perché mancano davvero poche sezioni e quindi ritengo di poter dare un numero che più o meno sarà quello definitivo. Allora per il referendum abbiamo circa 7.797 sezioni su 7.903 anzi può darsi che adesso nel frattempo è andata avanti da quando me l'hanno dato con una percentuale del 54,26% rispetto al referendum del 2016 dove invece c'era il 57,23%. Per quanto riguarda le regionali abbiamo una presenza, un dato del 57,68% di votanti rispetto al 53,78% dei regionali precedenti. Per le comunali anche qui abbiamo 558 su 606 sezioni quindi praticamente siamo alla fine e abbiamo 65,92% rispetto a 65,01% di 5 anni scorsi. quindi ritengo davvero che dobbiamo essere soddisfatti della partecipazione dei cittadini soddisfatta di come la macchina abbia funzionato un ringraziamento va anche a tutta la struttura del elettorale, del Ministero dell'Interno e ripeto a tutti coloro che hanno collaborato perché i cittadini potessero esercitare il loro diritto di voto in piena sicurezza e garanzia anche sanitaria. Quindi ringrazio tutti voi che siete presenti che avete atteso che scendessi ma ripeto i numeri erano quasi in conclusione quindi ho ritenuto che fosse opportuno scendere in questo momento quando mancano poche sezioni. Vi auguro buon lavoro e un ringraziamento ancora a tutti coloro che ci hanno supportato in questi giorni complicati perché quando si arriva alle elezioni devo dire che il lavoro inizia tanto tempo prima e abbiamo affrontato difficoltà giorno per giorno con, devo dire, oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo e quindi siamo soddisfatti di come tutto sia andato bene. Grazie a tutti.